Non capisco per quale motivo noi oggi abbiamo dovuto fare le corse per approvare questa legge delega, non abbiamo avuto neanche tempo di poter leggere con calma i fascicoli, per poi invece di andare a fare subito la dichiarazione di voto addirittura si è dovuto fare un rinvio. Questa è anomala, la gestione dell'aula non dovrebbe essere così anche perché questa mattina sono stati sovvertiti nell'ordine del giorno con cui erano stati elencati i provvedimenti. Questo modo di fare ci lascia basiti, perplessi e soprattutto credo che sia anche per l'urgenza che questa maggioranza ha voluto portare in aula il provvedimento della legge delega. Sicuramente è disdicevole e noi dell'opposizione lamentiamo e contestiamo questo modo di fare.